Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati sul nostro canale. Si vede dalla mia faccia, no? Come è andata questa partita. 0-0 nel derby della Mole tra Torino e Juventus. Ora ne parliamo, però, almeno per questa frase ritrovo il sorriso. Ragazzi, so che è difficile. So che non è facile seguire la Juve in questo momento. Perché comunque io parlo per me, ma penso di parlare a nome di tutti. Non è assolutamente facile. Vedere questa Juve non è facile. Seguire le partite non è facile. Trovare i stimoli per guardarla non è facile. Anche io non vedo l'ora che termina questa stagione perché non ce la faccio più. Perché non riesco, non ce la faccio proprio. Ma manca poco. Mancano sette o forse otto partite, credo. Però io vi chiedo, come sempre, di supportarci, di lasciare un like a questo video, di iscrivervi al nostro canale. Se vi va di abbonarvi perché ci aiutate e ci supportate, ragazzi. Incentivate la nostra voglia di portare i nostri commenti post partite, conferenze e tanto altro ancora. Ragionamenti che sono stati fatti e si continuano a fare e che arriveranno sicuramente. Allora, veniamo a questa partita orrenda perché si può dire solo questo, no? Altra partita obrobriosa della Juventus. Forse nei primi minuti siamo riusciti a creare quell'occasione che ha avuto Dusan Vlaovic con una grande giocata di Federico Chiesa dove ha preso il palo. Perché lì si mangia un gol Dusan. Però può capitare, che vi devo dire, ragazzi? Può capitare. Poi c'è stata un'altra occasione, sempre su Vlaovic, c'è stata una grande parata di Savic, il portiere del Torino. Anche lì ci può stare, però dopo quello buio totale. Buio totale. Non arrivo... Cioè, vorrei parlare anche del secondo tempo della Juve, ma non ce la faccio proprio perché non riesco a trovare una... Neanche una parola per... Cioè, non si può fare un secondo tempo... Il primo non è che sia stato chissà cosa, però almeno un'occasione, due occasioni ci sono state, allora di... Cioè, no? Il rammarico, magari arriva il secondo tempo, qualcosa in più la costruiamo. No. Ennesimo secondo tempo disastroso. Tutti dietro, aspettiamo il Torino, che alla fine non è che abbia creato chissà cosa, eh. Però partita di merda da una parte e dall'altra. Il Torino ha tenuto più il possesso palla e il palino del gioco, ma a parte un'occasione sul colpo di testa di Sanabia in cui Vlaovic fa una bella parata. Poi forse il tiro di Voivoda centrale, cioè centrale, sulle braccia di Scesni. Per il resto il Torino nega ci abbia impensierito. Ah, forse Lazaro alla fine, dove Iling si perde la marcatura. Però, cioè, questa Juventus rischia, continuerò a dirlo fino alla fine del campionato, rischia seriamente di non arrivare in Champions League. Cioè, rischia veramente. Ora ci aspetta una partita, se non sbaglio, contro il Cagliari. Non è facile. Non è facile, perché loro si devono salvare. Ma non si può ancora vedere una squadra del genere. A me, oggi, per l'ennesima volta, quello che mi ha fatto incazzare di più, in questo momento, dato che non riusciamo ad avere, non è che le abbiamo mai avute chissà come, però, delle piccole trame di gioco, a me la cosa che mi ha dato fastidio è che oggi, in un momento di difficoltà, che non si riusciva a uscire dalla metà campo avversaria, cioè dalla nostra metà campo in difesa, Allegri abbia cambiato a 63esimo, quando è stato, Chiesa, che era l'unico, insieme a Vlaovic, che ha cercato di creare qualcosa e ha messo Ildiz, che, per carità, non è entrato male, ha fatto vedere qualcosina, ma io dico, in una fase del genere, ok, che tu, perché ti hai capito, lui non vuole rompere gli equilibri, perché secondo, cioè, quando ha provato, abbiamo preso qualche imbarcata, però, siccome la partita stava andando una merda, e ci stavamo schiacciando tutti dietro, provali, non dico fino alla fine della partita, è il 63esimo, provali, 10 minuti, un quarto d'ora, 10 minuti, provali tutti e tre, vedi cosa succede? Se va male, Chiesa poi lo togli, ma non che me lo togli al 63esimo, e ripeto, stava facendo una discreta partita, era l'unico che cercava qualcosina in più lì davanti, insieme a Vlaovic, cioè, stiamo diventando, sta diventando, a volte, come Sarri, sotto alcuni punti di vista, che fa i cambi sistematici, sempre quelli, solo quelli, per cambiare la partita, e Allegri di una volta non era così obiettivamente, cioè, la cosa se l'inventava, no, non si può fare, tutto piatto, tutto piatto, a me sta cosa mi ha dato veramente al cazzo oggi, perché poi il cambio di Alcarez, ok, per capire se Shesny stava bene o non stava bene, però lo potevi fare prima, a prescindere dall'infortunio a Shesny, che poi comunque è restato in campo, però UEA non è pervenuto, ok che non ha fatto bene in queste ultime partite, quando ha giocato, però mettere Alcarez a due o tre minuti dalla fine, che cazzo deve fare? Che cazzo deve fare? Ha paura, in questo momento, ci può stare, ci sta, perché se non raggiunge la qualificazione la Champions League, è un disastro, ha paura in questo momento di osare in qualcosa, e quindi sta restando su una linea retta e continua, quello è, non si può fare qualcosa di diverso, vuole cercare di arrivare alla qualificazione di Champions League con il massimo sforzo sotto il punto di vista, massimo sforzo sotto il punto di vista, nel senso che non ce la facciamo a fare qualcosa, ma con il minimo sforzo nel cercare di mettere qualcosa di nuovo in questa Juventus, che non va, che non va assolutamente rispetto all'inizio stagione, non mi sta piacendo questo atteggiamento, ripeto, ci può stare, avere paura, perché lui, obiettivamente, secondo me, l'ha capito, cioè lo sa, che a fine stagione fa i bagagli e va via, e quindi sta cercando di lasciare la Juventus in condizioni, cioè quelle che si erano prefissate, semplicemente, e, ripeto, ha paura di sbagliare in questo momento, e da lui non me lo aspetto, da lui non me lo aspetto, ma questo è, sulla partita, io, ragazzi, cioè, trovare il migliore in campo, sì, Bremer, sicuramente, perché ha tenuto bene Zapata, perché mi dispiace per Vlaovic, perché si merita il gol in queste partite, peccato quello annullato con la Fiorentina, questo che ha preso Palo, mi dispiace tanto per Chiesa, cioè, io, infatti, l'ho detto a mio fratello parlando, commentando la partita, io, sbagliando, perché sbagliando, in quel frangente, per l'ennesima volta, perché l'ha fatto anche contro la Fiorentina, il 65esimo, se non era, è stato cambiato, io l'avrei mandato a cagare, e porca troia, è l'unico che sta facendo qualcosa, e tu me lo cambi, tu mi cambi, tu mi cambi, non va bene, non va bene, sul peggiore in campo, io continuerò a dire Kostic, perché non so cosa ci serve in questo momento, giocatore inutile, giocatore inutile, non serve più a niente, non che gli altri stiano facendo chissà cosa, anche cambiato, ho avuto un declino, ma come tutta la squadra, cioè, a parte i due attaccanti, cioè, secondo me, io quando sono voluto andare contro Chiesa, l'ho fatto, ma in questo momento, che cazzo li vogliamo dire? Che cosa li vogliamo dire? Sono gli unici due, che stanno cercando di fare qualcosa lì davanti, a portarci a questa benedetta qualificazione Champions League, che con un pareggio di oggi, ci vede, di nuovo, messi in difficoltà, speriamo, nei passi fassi del Bologna e della Roma, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Questo, e speriamo che gli altri non vincono, ormai questo possiamo sperare di fare, perché, non possiamo contare su di noi, dobbiamo sperare nelle altre squadre, vabbè, questo è quello un po' che volevo dire, ragazzi, però, poco, aspetto i vostri commenti, che siano sicuramente, saranno allegri out, allegri out, però cerchiamo di argomentare, anche perché la mia, la sapete già, ribadisco il fatto, che il prossimo anno bisogna cambiare, perché mi sono rotto il cazzo pure io, ma cambiare, allenatore e giocatori, molti eh, Locatelli per me è un'altra partita di merda, cioè, ma ripeto, è difficile trovare chi oggi ha giochicchiato, a parte i due lì davanti, abbandonati a se stessi, ragazzi, grazie ancora per seguirci, lasciate un like, tanto non vi costa niente, iscrivetevi a questo canale, ci vediamo presto, fino alla fine, forza Juve, questo continuerò a dirlo, perché la passione resta, ragazzi, dai, stringiamo i denti, e teniamo duro, fino alla fine della stagione, ciao ragazzi, buon weekend!